bellissime marcature sull'eco scandaglio a vedere sembrano proprio dei barracuda sono su un fondale medio basso tra i 10 e 16 metri diverse belle marcature sia in alta frequenza che bassa frequenza ora momenti ci passiamo con le canne vediamo se sono in attività sono abbastanza fiducioso perché avendo tre cane con terminali molto lunghi e posizionati su diverse altezze ed essendo loro poi predatori abbastanza aggressivi spesso e volentieri mangia vediamo facciamo un giro qua in cerchio se la prima passata non dovessero mangiare e poi al limite facciamo altre 1 o 2 passate a favore di corrente facciamo un giro Grazie a tutti Eccolo Grazie a tutti Grazie a tutti